L'olio di cocco è un olio miracoloso con molteplici benefici. Idrata e nutre la pelle e i capelli, aiuta a trattare molti problemi come rughe, smagliature o bruciature. Ma l'olio di cocco è anche un alleato dimagrante. Infatti, questo olio è costituito da acidi grassi a catena media, tre gliceridi. Sono facilmente digeribili e bruciati del corpo. Pertanto, a causa del modo in cui questi acidi grassi vengono metabolizzati dal corpo, l'olio di cocco può ridurre l'appetito, stimolare il processo di combustione dei grassi migliorando il metabolismo, il che si traduce in una sana perdita di peso. Come usare l'olio di cocco per perdere peso? Ecco alcune ricette efficaci con olio di cocco per aiutarti a perdere peso. Prendi un cucchiaio di olio di cocco due volte al giorno con i pasti. Puoi anche consumarlo subito dopo cena, e usarlo come sostituto per l'olio d'oliva. E' meglio usare olio di cocco vergine spremuto a freddo. Aggiungi uno o due cucchiai di olio di cocco in un bicchiere di acqua tiepida o tisana. Mescolare e bere regolarmente. In un bicchiere, mescolare un po' di succo di limone con un cucchiaio di olio di cocco, e un po' d'acqua. Quindi aggiungere un po' di acqua calda e mescolare accuratamente. Bevi questa miscela al mattino. Il limone è anche efficace per la perdita di peso. Mescolare due cucchiai di foglie di tè verde, acqua calda e un cucchiaio di olio di cocco. Lasciare riposare per alcuni minuti prima di filtrare. Bevi lentamente e costantemente. Puoi anche goderti benefici dell'olio di cocco aggiungendo due cucchiai di questo olio nei tuoi frullati, yogurt o succhi di frutta. Ricetta di frullato a base di olio di cocco. Per fare questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti. 1 lattina di latte di cocco. 1 mezzo cucchiaino di olio di cocco. 1 tazza d'acqua. 1 manciata di ciliegie o 1 tazza di mertilli. Metti tutti gli ingredienti in un frullatore e mescola. È possibile aggiungere la stevia per addolcire. Bevi regolarmente questo frullato per goderni i benefici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti